Prova numero 3. Vaccaro mi ha detto che mio nonno era colpevole perché aveva con sé due taniche, una accanto a lui, una sul sedile posteriore della sua macchina. Ma tutti i giornali che hanno parlato della notizia hanno detto che i carabinieri hanno trovato una tanica di benzina nella macchina, senza mai parlare di sedile posteriore. Dottoressa, la panda di mio nonno aveva il portellone dietro bloccato, ma solo chi ha messo la tanica nella sua macchina lo poteva sapere. Prova numero... aspetti, prova numero 0. Questi sono solo indizi, nessuna prova. Prova numero 4. Le impronte digitali sulla tanica trovata nella macchina corrispondono a quelle di Nicola Vaccaro. E lei come fa a saperlo? Non lo so infatti, ma se voi controllate, guardi che lei è proprio un bel tipo. Va bene, controlleremo, glielo prometto. Grazie, veramente. Il crotonisi. Innocente il pensionato piromane, arrestata a una guardia ambientale, svolta nelle indagini sull'incendio doloso del 17 luglio scorso. In un primo momento la responsabilità dell'incendio era stata attribuita a Vincenzo Riolo, il pensionato trovato carbonizzato nel bosco accanto a una tanica di benzina. I carabinieri hanno invece arrestato, con l'accusa di incendio doloso, Nicola Vaccaro, guardia ambientale di 47 anni. Le sue impronte digitali sarebbero state trovate sulla seconda tanica ritrovata nell'auto del pensionato. Con questa nuova sede delle cantine Celiberti abbiamo deciso di investire sulla qualità. Qualità non significa solo qualità del prodotto, ma anche qualità del lavoro. Qualità del tempo che i nostri dipendenti dedicano ogni giorno al successo dell'azienda. Successo che deve essere anche il loro successo. E poi qualità dell'ambiente. Quindi non solo produzione di un'uva rigorosamente biologica, ma anche eliminazione totale di sostanze potenzialmente tossiche, come per esempio i sulfiti nella produzione del vino. E questo è stato possibile grazie alla creazione di una catena produttiva costantemente sottovuoto. Ma qualità dell'ambiente significa anche risparmio di energia. E infatti la nostra azienda è energeticamente autosufficiente, grazie ai pannelli fotovoltaici che coprono i tetti di tutte le nostre strutture.